La Biblioteca Zelantea da Cireale ieri sera ha ospitato la conferenza del professor Eugenio Magnano di San Lio, docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Catania. Oggetto dell'incontro la figura di Paolo Amico Guerrera, architetto accese del Settecento, un uomo che ha messo la firma su un pezzo importante di buona parte della struttura architettonica della città. Magnano di San Lio, oltre a mettere in risalto alcuni aspetti biografici di Amico Guerrera, ne ha esaltato le grandi capacità, entrando nello specifico di quei progetti che hanno reso più affascinante la città di Ecireale.